Il bravissimo Claudio Bisio sarebbe risultato positivo al Covid-19, al famigerato coronavirus. Sarebbe stato lo stesso famoso attore italiano per eccellenza a comunicare ciò ai suoi tanti fan, a fornire le notizie in questione e ovviamente diciamo che è una sorta di fulmine a ciel sereno, secondo la mia opinione. Dunque sarebbe positivo al Covid-19, però non ha problemi di salute gravi, infatti soltanto un pochino di tosse si va a registrare da come si reagisce nel web. Vi ringrazio per l'ascolto, cari esili utenti di Youtube, il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fornitemi le vostre opinioni, ci tenga da averle. Se è ben chiaro che questo video non vuole rendere la base di Claudio Bisio, negli altre persone possono informare e basta. Grazie a tutti, al prossimo video, un abbraccio forte a Claudio Bisio.